Musica Bella ragazzi sono CapitanoFoli97 e benvenuti in questo nuovo video Che probabilmente saranno più di un video dove voglio fare un gameplay su The Riz L'ultima mappa uscita per World Tour presenta anche in Black Ops O con la limited edition o anche acquistabile tramite l'ultimo pacchetto mappe Però la voglio fare su World Tour perché Tanto devo dire che World Tour è uno dei miei capitoli preferiti di Call of Duty Ma soprattutto per le armi che sono presenti perché quelle della seconda guerra mondiale Mi piacciono di più rispetto a quelle di Black Ops E vabbè è un po' bugato perché sono presenti diversi bug ogni tanto Però Incominciamo Ho Dempsey Sì sì ho Dempsey Abbassano un pochino ok Allora qua mi sbaglio lì c'è il Carr E là c'è il Gever ma non prendo niente Perché O almeno provo a non prendere niente Qua giù stanno già su andando E tutti qua Ok Là ce n'è uno Lì non c'è nessuno E là non c'è nessuno Mi sa che questo è l'ultimo Ok Sì era l'ultimo Ah scusa Allora Qua c'è anche la radio Spero di arrivare a round altri Dobbiamo aprire questa porta Per poter usare quella macchina Ma è lì giù L'hanno già su andato Allora La porta se non mi sbaglio Questa è 7,50 Sì 7,50 Adesso arrivo a andare sopra Sto cercando Ah ecco lì dietro Vediamo vediamo Aspetta qua ne sta arrivando uno Morto Ecco lì ce n'erano un paio No erano tre Perché è un paio Ah bombe Vabbè io direi di aprire perché Aspetta 7,50 Questa qua costa altri 7,50 Aspettiamo un attimo Mi sa che prendo il Thompson Perché non riesco di arrivare Direttamente alla cassa Ho anche così finito la munizione Vado a prendere il Thompson No apriti dai Ok Pialzo e spacca Anche se devo dire che mi piace di più L'MP40 Quanto costa la porta Mille qua mi sembra Non c'è nessuno Allora vediamo Mille ok Vabbè ci arriviamo Abbastanza facilmente Poi ci allegniamo Intanto siamo arrivati a mille punti Vabbè vado ad aprire intanto Scendiamo E poi si attivo subito la corrente Tanto non Non mi si aprono porte Che mi mettono in difficoltà Anzi mi aiutano Beh Dai trepa Dietro c'è un altro Oh sento rompere una finestra Non capisco dove Ripariamo anche qua Tanto non dovrei avere particolari problemi Al Thompson Quindi Allora Voglio controllare un attimo La sensibilità Va bene va bene Ok posto Dove minchia è Oh dove minchia è Non riesco a capire Ma non era l'unico Oh ma che cazzo succede Dove sono dai Come sparare a dei cruchchi in barile Oddio Diamo un po' di punti Ma quanti cacchi sono Pensavo fosse il finito round Adesso proviamo la cassa Voglio beccare naturalmente la bunderwaffe Allora vediamo un po' che cosa do offrirci oggi la cassa Va bene Al prossimo giro Al prossimo giro Vonderwaffe Sì vabbè Sì vabbè però potevo anche aspettare a prenderla Ui dov'è Dove è Ah eccolo Eccolo Che bonus ho preso Ho preso un bonus però Sarà ancora l'eliminazione istantanea Perché Ah già i cani cacchio Il miglior amico dell'uomo Non credo proprio Il miglior amico dell'uomo C'erano le granate Ah ma è vero C'è l'eliminazione istantanea Ah infatti quello là è caduto morto Vai Guarda che culo Dai 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 Dove cazzo è Dai Ah eccolo Funzioni vado a prendere La Jaggerrack Perché mi sentirei un po' più sicuro Lo so che è un round Siamo un round grosso però Guardatore è più difficile Di black corpse Cioè ti danno Spesso con una mannata Te ne danno due Cioè voglio dire Quando ti attacco una volta Arriva subito il secondo attacco E quindi potresti morire Se non sei bravo a scrivarlo Una Jaggerrack ci sta sempre L'alcia granate Vabbè no uso Vorrei provare a modificarla Questa arma Chissà cosa viene Vabbè basta No no abbiamo cambiato idea Venite a dare una ripulita Quanti minchia sono Non si scherza Dai dai mi sta andando abbastanza bene Vediamo FG42 dai Ho sbarato una raffica Non ho preso nessuno Dai Vabbè Vabbè Cazzo urli Help Poi non ha senso Metterlo qua Cioè voglio dire In accedere a tutta in cera La scritta help Sulla porta da aprire Qua Qua non la posso aprire Non capisco Sulla carabina no Perché ho ricaricato Perché ho ricaricato Cioè Sono stupido Ok Riproviamola Io voglio la vendere Basta Basta Eh va Fambrodo Mi hanno mai detto Che ridi come una ragazza Ma basta Stronzo Ma quanti cazzo sono Dai apri Yalla Quanti cazzo sono C'è andai monkey Che devo anche attivare Il teletrasporto qua Sì vabbè A parte che non li ho fatti Con una Vabbè Proviamoci Ma che Adesso devo Lì intanto Non c'è la cassa Mi sembra Nessuno ha mai sentito Parlare di No Vabbè Proviamo A andare a attivare Il teletrasporto Mi sento a crepare Con quello Stronzo Che mi segue Grazie a tutti